In questo video vedremo come integrare il Digital Storytelling in classe, vale a dire con quali modalità pratiche poi far entrare questa metodologia nella nostra prassi quotidiana. Rapidamente diciamo che il Digital Storytelling è una metodologia di quelle cosiddette attive con la quale si narrano delle storie, presupponendo che per l'appunto chi racconta impara ancora di più, ancora meglio, ciò che sta raccontando. Si differenzia da un semplice PowerPoint perché ha un impianto naturalmente narrativo, vale a dire ha l'obiettivo di narrare una storia e non semplicemente di presentare materiali multimediali. I tipi di Digital Storytelling sono moltissimi, tra i più noti quello dei finali alternativi, quello delle interviste o i dialoghi impossibili, quello della biografia o reportage, e infine quelli legati più che altro all'ambito scientifico come la Science Fiction o anche il programma TV. I vantaggi sono un apprendimento di natura esperienziale, maggiormente legato alla creatività degli alunni perché si sentono più partecipi in quanto metodologia attiva, tendenzialmente multidisciplinare perché potrebbe coinvolgere più discipline e quindi anche legato a competenze trasversali, non ultima quella di saper usare certi strumenti online che ora vedremo. Come integrarlo in classe? Ecco il punto. Noi partiremo da una lezione di letteratura. In questo caso il nostro esempio sarà una lezione di letteratura in particolare legata a Dino Buzzati. La tipologia di digital storytelling che adopereremo sarà quella del prologo e finale alternativo. L'obiettivo. Ecco, questo è l'aspetto più importante. Naturalmente l'obiettivo è l'analisi del testo, quindi è un obiettivo assolutamente tradizionale, penso soprattutto alle classi quinte della scuola superiore, ma accanto all'analisi c'è anche l'aspetto della produzione del testo. In genere infatti i ragazzi, secondo una dinamica tradizionale, apprendono ad analizzare un testo, non a riprodurlo. Talvolta invece produrre un testo secondo gli stilemi di un autore è un modo ancora più efficace di imparare quell'autore, quel testo e quindi anche l'analisi. Lo strumento che adopereremo sarà un sito molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace che è tac.com. Ora vediamo appunto un esempio di digital storytelling realizzato con tac.com Ecco, questo è il sito tac.com L'indirizzo a cui potete trovare questo lavoro è tac.com.buzzati E' stato un caso reale, vale a dire realizzato praticamente dalle mie classi. L'obiettivo qui è prendere un romanzo che è Il Deserto dei Tartari e ho scritto qui un sottotitolo Quando decisi di arruolarmi, esperimento di digital storytelling Tac vedete che funziona come una sorta di blog vale a dire si naviga dall'alto verso il basso, una specie di cartellone multimediale Tutte queste parti, titoli, sottotitoli, immagine, altri titoli, testi possono essere aggiunti con estrema facilità Ora, come è stato costruito? A un titolo iniziale, Il Deserto dei Tartari, quando decisi di arruolarmi ed è evidentemente uno storytelling legato a un prologo immaginario In questo caso non ha un finale immaginario Ha previsto un sottotitolo Un'immagine di copertina E poi qui ci cominciano ad essere le indicazioni Il progetto Scriviamo un prologo I ragazzi, dunque, devono immaginare di scrivere l'inizio della storia dei personaggi Qui viene proposto di seguito l'incipit vero e proprio del romanzo Con un semplice copia e incolla ho inserito l'inizio del romanzo Si dà per scontato che questo romanzo sia stato studiato in classe se non letto integralmente Nel caso che il romanzo sia stato solo sintetizzato in classe, nelle sue linee fondamentali può essere opportuno, ecco, inserire delle citazioni dal romanzo per dare anche una impressione della tecnica, dello stile, della sintassi, del lessico di Buzzati E qui ho scelto alcune citazioni Potevamo sceglierne altre, naturalmente, con l'indicazione della pagina Tutto questo è un semplice lavoro di copia e incolla Naturalmente molto semplice se si ha a disposizione l'edizione digitale del testo Poi qui vediamo l'explicit, il finale del romanzo Quindi abbiamo visto per ora l'inizio qualche citazione ritenuta significativa del romanzo il finale del romanzo Ora, fatto questo, i ragazzi devono intervenire con il loro digital storytelling e qui ho inserito delle indicazioni operative E ho scritto Dopo ciascuna sequenza narrativa scritta cita la pagina o le pagine del romanzo che hanno con essa, a tuo avviso, un legame di qualche tipo Questo fa sì che i ragazzi abbiano una adesione al testo Si propongono infatti delle sequenze narrative che gli alunni devono leggere e poi si invita loro a sottolineare quelli che sono gli aspetti di eventuale anticipazione oppure riferimento oppure allusione, analogia con altri Quindi l'aspetto dell'analisi del testo, diciamo tradizionale, è assolutamente presente Dopo questa indicazione operativa si arriva alla vera e propria stesura Scrivi il tuo prologo del romanzo Tuo, si può anche presupporre, un lavoro di gruppo Il testo deve avere almeno 5.000 battute e in questo caso con un editor testuale abbastanza semplice capire in tempo reale il numero delle battute a cui si è giunti Ecco, qui ci sono poi una serie di suggerimenti per rendere il lavoro più guidato, meno dispersivo specie per le prime volte Ci sono brevissime informazioni sulla vita che comunque i ragazzi possono reperire dal libro o anche da altre risorse E qui si dice Dino Buzzati scrisse un breve romanzo al titolo Barnabo delle montagne in cui sono presenti alcuni temi tipici del romanzo poi maggiore Per esempio il tema della montagna il tema dell'attesa, della volontà, della ricerca di un significato Poi scendendo ho inserito dei materiali di approfondimento facoltativi Qui ci sono delle interviste a Dino Buzzati in questo caso sono una risorsa interessante e li ho completamente integrati nel TAC cioè vale a dire in questo strumento Poi su YouTube è presente anche l'integrale di uno spettacolo teatrale dedicato al deserto dei Tartari qualche nota sullo spettacolo teatrale in relazione soprattutto alle libertà che sono state prese nella messa in scena Questo poi fu un evento legato all'anno passato relativo a DS Firenze che per l'appunto fu centrato sulla figura di Dino Buzzati non ha direttamente a che fare col digital storytelling ma questo evento fu un po' lo spunto per questo tipo di lavoro Poi al termine alcune informazioni nel caso in cui il libro caso remoto, in cui il libro non riportasse le informazioni su Buzzati quindi ceni sulla vita, qualche foto naturalmente ceni sulle opere Poi TAC consente anche di collegare tramite questo tasto tale pagina ad un'altra pagina web ed effettuare eventualmente un quiz su Buzzati una specie di ripasso semplice Ho inserito anche un link esterno a Wikipedia una breve testo sui racconti di Buzzati che può essere utile anche per la stesura del prologo immaginario Qui ho inserito poi un'analisi come vedete è presente in SlideShare quindi TAC integra, incorpora tecnicamente gli SlideShare presenti appunto esternamente al TAC Qui ho inserito un form in cui i ragazzi potevano contattare l'insegnante per eventuali chiarimenti E qui finisce il TAC Come vedete in questa pagina In questa parte finale è presente una sezione con tutte le funzioni che io ho utilizzato per costruire il TAC quindi inserimento testo, giustificazione del testo fotografia, video, musica, bottoni, geolocalizzazione ed altri meno usati Nella parte finale è possibile anche lasciare liberi gli studenti di eventuali commenti Quindi, ripercorrendo ora ritroso l'esperimento vediamo che questo Digital Storytelling aveva un obiettivo Prima di tutto, leggere il testo di Buzzati Solo dopo averlo letto Ecco qua, ritorniamo al romanzo Solo dopo averlo letto i ragazzi dovevano e potevano scrivere secondo quello stile di Buzzati Questo tipo di richiesta tuttavia non è vaga è molto precisa in quanto si chiede nelle consegne un aspetto molto pratico vale a dire dopo ciascuna sequenza narrativa scritta scritta naturalmente dai ragazzi cita la pagina o le pagine del romanzo che hanno con essa un legame di qualche tipo Questo significa che i ragazzi non possono scrivere un prologo in totale libertà secondo uno stile totalmente diverso da quello di Buzzati ma devono necessariamente imitare quello stile per dimostrare di aver capito quelli che sono gli stilemi dell'autore ma allo stesso tempo hanno modo di inserire qualcosa del loro gusto personale nello spiegare per esempio perché il personaggio principale ad un certo punto ha deciso di arruolarsi aspetto che, inutile dirlo nel romanzo non è espresso non è direttamente espresso ma ci sono dei punti non molti per la verità in cui si può ricostruire il perché questi punti poi in un ambito extratestuale possono anche essere desunti da altre opere per esempio Barnabo delle montagne o i riassunti e i racconti ecco questo esperimento mira a studiare tradizionalmente il testo di Buzzati ma allo stesso tempo di produrre di nuovo un testo che imiti quello dell'autore e in questa maniera aiuti anche i ragazzi a confrontarsi con un certo stile di scrittura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti